Ovviamente cari italiani, torno dopo tempo a dire, se siete al volante tenete strette le mani, mani sul volante perché torna la vicenda delle regioni, stavolta quasi anche con noia, ma insomma le vicende sono tutte uguali, tutte le regioni, le accuse sono tutte uguali, poi per carità vanno provate, ma le accuse sono sempre peculato, spese loro, soldi nostri. Stavolta la regione Abruzzo, Giuseppe Caporale da Pescara su Repubblica racconta, pagina 23, suite, viaggi e terme a spese della regione. Non sentite un, non so che di, già sentito 8.500 volte di noioso, ma di istantio, di così ripetitivo, ma così estremamente attuale. Pagava tutto la regione Abruzzo, stavolta la regione Abruzzo, per loro, per le mogli, per gli amici e anche per gli amanti. Suite negli alberghi a 5 stelle, ristoranti di lusso, vacanze alle terme, le missioni istituzionali del presidente della regione Gianni Chiodi, del presidente del Consiglio regionale Nazario Pagano e di quasi tutta la giunta di centrodestra erano in realtà viaggi da dolce vita con soldi pubblici. Il prezzo dello spreco calcolato dagli inquirenti ammonta a 80.000 euro. Il meccanismo, secondo gli inquirenti, era semplice, bastava utilizzare la carta di credito dell'ente e ottenere una fattura taroccata dall'esercente dove far risultare la spesa solo per una persona, ma in realtà utilizzare i servizi di lusso erano almeno in due. Per esempio, il governatore Chiodi, secondo i magistrati, spende 2.800 euro con i soldi della regione per pagare il biglietto aereo Roma-Washington della moglie, ovviamente in business class, ma ci sono poi viaggi a Taormina, Capri, Nizza, Parigi con generiche motivazioni a supporto, ma è solo il primo della lista e via così. Per carità, tutto da provare, ma le accuse sono sempre queste.